Buongiorno a tutti, sono sempre Victor Laslo88, per iniziare con il video di oggi vi ricordo che fino a mezzanotte, quindi avete ancora qualche ora di tempo, le magliette su sito e pampling sono a 11.90, dopodiché passeranno a 14.90, per cui se vi interessa date un'occhiata al catalogo, il link è in descrizione qui sotto, perché ce ne sono un sacco veramente carine, vi metto in sua impressione quelle che mi piacciono di più in questo momento, per cui se vi interessa acquistare uno più di questi prodotti o qualunque altro prodotto dal catalogo, potete aggiungere un paio di calze a vostra scelta, e poi se usate il codice VILASZO, le calze non le pagate, quindi se vi interessa sapete cosa fare, ora però, bando alle cianci, iniziamo subito con il video di oggi, sigla! Allora, torna il giovedì Marvel, anche se sono in vacanza, ma alcuni video ci tenevo a realizzarli comunque, nonostante stia usando mezzi di fortuna, perché poi recuperarli in un secondo momento sarebbe stato difficile, perché si sarebbero accumulati altri video da fare, per cui sto cercando di fare i video sulle cose più impellenti. E oggi voglio parlare naturalmente del secondo episodio di She-Hulk. Questa serie per ora sta rappresentando una delle più grandi cantonate che io abbia mai preso, perché per mesi sono stato convinto che questa serie non sarebbe stata granché. Ovvio, io do sempre il beneficio del dubbio, infatti ho deciso di farlo anche in questo caso, e ho fatto bene, però ammetto che sono arrivato alla visione del primo episodio senza aspettative. Ero convinto che sarebbe stata l'ennesima serie deludente di Marvel Studios, a maggior ragione perché dei trailer sembrava una cacatona incredibile. L'unico motivo per cui volevo guardarla era la presenza di Daredevil, anche se sapevo che, nonostante il personaggio avesse ancora la faccia di Charlie Cox, non sarebbe stato quello cupo e violento della serie su Netflix, anche perché Daredevil nei fumetti è spesso abbastanza gigione, per cui la serie su Netflix aveva preso il suo lato più scuro e l'aveva messo in scena. Essendo questo personaggio stato ripreso nel Marvel Studios, so già che quando comparirà non ritroverò minimamente il Matt Marduk, o Daredevil se preferite, di quella serie che tanto avevo apprezzato. Mi sono già messo l'anima in pace in tal senso. Però devo ammettere che è il secondo episodio di questa serie che esce, ed è la seconda volta che termino la visione sorridendo, perché trovo che questa serie abbia trovato la formula giusta per esistere. È una serie che, per l'appunto, non si prende sul serio, è una serie dichiaratamente comica, questa cosa mi piace, l'avevamo già letto nel video riguardante l'episodio precedente, ma c'è una cosa che avevano detto e che io per ora non ravviso, è vero. È solo il secondo episodio su nove, quindi fanno ancora in tempo a cambiare un po' le cose, ma avevano detto che sarebbe stata una serie procedurale con il caso della settimana, la trama che andava avanti, quella orizzontale, ma si sarebbero concentrati su storie che si sarebbero dipanate puntata dopo puntata. A me per ora sembra una serie piuttosto classica. Nel primo episodio sono successe delle cose che qui hanno una ripercussione e si riprende da dove ci si era fermati. Io speravo che ci fosse una trama orizzontale, ma speravo anche che questa trama orizzontale non ci fosse per tutto l'episodio che avremmo visto puntata dopo puntata, il caso in cui Jennifer Walters difende qualcuno in tribunale e quindi c'è la storia della puntata e ogni tanto ci sono degli elementi che proseguono una trama più ampia. Per ora a me sembra che sia tutta trama orizzontale, perché in questo episodio Jennifer Walters viene acclamata come Shulk, nome che peraltro lei detesta, però il problema è che succedono delle cose che la portano a dover fare delle scelte. Per cui ho apprezzato il fatto di concentrarsi un po' su Jennifer Walters come essere umano per farci capire quali sono le sue difficoltà. Poi ci sono degli elementi di trama che ho apprezzato veramente tanto, c'è un personaggio in particolare che mi è piaciuto e anche parecchio e io non vedevo l'ora che si arrivasse a quel punto per capire un attimino dove si stesse andando a parare e continuo ad essere contento per il fatto che ci siano dei riferimenti veramente importanti all'MCU e in particolar modo a Shang-Chi e la leggenda degli Ecenelli che ormai è confermato che avviene prima di questa serie e non dopo cronologicamente come avevo pensato per parecchio tempo. e diciamo che non è fondamentale aver visto Shang-Chi ma se lo si è visto c'è un quadro leggermente più completo di quella che è la situazione. È una cosa che da un lato mi fa piacere perché allora significa che queste serie non sono inutili come si poteva pensare, già Miss Marvel ha introdotto dei concetti importantissimi forse troppo per essere una serie che non tutti hanno visto anche perché è stata una delle meno viste Miss Marvel e dall'altra parte però il problema è che c'è questa contraddizione per cui mi va bene che le serie siano collegate così non sono inutili ma mi sta meno bene perché non tutti hanno il tempo e la voglia di recuperarsi una serie e si potrebbero perdere dei pezzi. Ad esempio quando vedremo Miss Marvel nel film The Marvels magari non ci spiegheranno la sua origin storie per comprenderla bisognerà guardare per forza una serie e magari qualcuno può pensare io non sono appassionato di serie non mi piace guardarle anche se guardare Miss Marvel non mi porterebbe via troppo tempo non mi va. Secondo me mescolare il meglio cinematografico e quello seriale collegandoli a doppio filo non è questa gran mossa ma capisco che a livello di marketing loro danno l'idea di avere un universo estremamente coeso però io continuo a pensare che questa cosa abbia da una parte un lato positivo dall'altra un lato negativo però vedere riferimenti a Shang-Chi a me non è dispiaciuto è ovvio che però a certe cose se qualcuno non ha visto il film si chiede ok ma quando? quando? spero che spieghino un po' meglio comunque sia va bene così e poi secondo me stanno cercando di introdurre qualcosa di grosso che vedremo nei film riguardante Hulk perché c'è la voce che sembra che She-Hulk sia una serie che prepara a che prepara per appunto a World War Hulk ed effettivamente ci sono degli elementi che me lo fanno pensare l'unica cosa che non mi ha fatto impazzire è il fatto che continuino a inserire tematiche femministe sacrosante in sé ma che mi sembrano messe nella narrazione in maniera un pochino forzata cioè a un certo punto parte sempre il pistolotto femminista che però non sembra inserito organicamente nella storia sembra proprio il momento femminismo tutti fermi vai e parte il discorso preferirei che la cosa venisse un pochino più amalgamata cioè non mi sto lamentando della cosa in sé assolutamente no mi lamento di come la mettono in scena niente di grave per l'amor di dio però mi pare un pochino forzato secondo me bisogna ancora imparare a rendere queste tematiche più strutturate mettiamola così secondo me Disney ha questo problema che nei suoi prodotti non le struttura abbastanza te le butta in faccia in modo che si capisca qual è l'intento perché è quella la cosa importante per loro e via andare però penso che con il passare del tempo si arriverà a comprendere come parlare di certe tematiche senza che possano risultare forzate per chi guarda comunque sia la puntata mi è piaciuta l'ho trovata divertente trovo che la struttura di mezz'oretta con tanta comicità tante gag non tutte sempre funzionanti lo ammetto non ho riso sempre ad ogni battuta però ce ne sono alcune che mi hanno fatto ridere credo che sia la scelta migliore anche perché sono solo nove puntate quindi nove puntate secondo me possono essere un numero soddisfacente perché come abbiamo già visto in WandaVision se si riesce a gestirle cosa che lì non hanno fatto ma era chiaro che se l'avessero gestita bene avrebbe funzionato si può avere una storia senza bisogno di affrettare tutto poi in WandaVision hanno affrettato tutto perché non hanno saputo gestire bene loro i tempi in She-Hulk sembra che i tempi li sappiano gestire un po' di più quindi spero che non arrivi come purtroppo arriva in quasi tutte le serie di Marvel Studios il momento in cui la serie andrà in vacca col fatto che si prende meno sul serio secondo me i rischi sono più bassi però io alzo le mani perché tante volte ero entusiasta per una serie e arrivava quel momento in cui dovevo incazzarmi quindi stavolta spero che non sia così comunque sia questo era un parere un po' generico adesso parlerò della puntata facendo spoiler quindi se non siete in pari con She-Hulk non proseguire la visione di questo video perché andrò molto nello specifico per cui siete avvisati ci saranno un sacco di spoiler allora innanzitutto io ho apprezzato tantissimo l'idea di lei che viene punita per aver fatto la cosa giusta mi piace perché sostanzialmente lei ha salvato la giuria però ha perso il caso e quindi il suo capo la licenzia tra l'altro lei viene sempre trattata con un certo maschilismo e a un certo punto giustamente lei si lamenta di questa cosa però avviene quello che vi ho detto prima nei momenti in cui lei si lamenta di come viene trattata in quanto donna sembra che tutto si fermi si accende un occhio di bue su di lei e si sente la voce che dice attenzione momento di femminismo prego parla cioè è tutto troppo impostato secondo me quindi ci sta perché il senso è ottimo cioè io so perfettamente che le cose che lei dice sono cose vere sono angherie cose bruttissime che le donne soprattutto sul posto di lavoro subiscono quotidianamente quindi non vuole essere una rimostranza riguardante quello che vogliono come dicevo prima esprimere è proprio come il tutto è messo in scena secondo per secondo come se tutto si fermasse come se la narrazione ne soffrisse non è organico è come se questa cosa si prendesse il tempo per diventare protagonista e secondo me andrebbe fatto in un altro modo ma non voglio soffermarmi troppo perché ho già spiegato abbastanza bene poco fa comunque sia era per farvi capire soprattutto il momento in cui il capo la licenzia lei che si lamenta poco dopo per come è stata trattata però ci sta perché il senso effettivamente è giusto perché è vero che sono cose che accadono ovvio qua c'è l'idea dei superpoteri e del sovrannaturale è ok però se togliamo questa questi elementi irrealistici il resto è tutto perfettamente realistico anche il collega che va da lei e le dice ecco hai voluto tirare fuori a sorpresa i superpoteri solo per farti pubblicità come dire uno magari fa una cosa giusta una cosa però sorprendente l'ha fatta per forza per farsi pubblicità superpoteri o meno è una frase che si potrebbe sentire anche nel mondo reale quindi bella questa cosa di lei che per l'appunto è effettivamente spompa scarica per il fatto che l'abbiano licenziata perché è diventata Shulk quando Titania è entrata nell'aula e rischiava di fare del male a tutti tra l'altro Titania che penso comparerà di nuovo nel corso della serie qui è indicata come una influencer con superpoteri ed effettivamente è vestita in modo molto glamour quindi deve essere una di quelle lifestyler che circolano sul web e tra l'altro io faccio notare i dettaglietti che sono stati disseminati nella puntata ad esempio quando Jennifer sta cercando un lavoro nuovo quella scena mi ha fatto leader perché è lì al computer e sta cercando lavori inusuali mascotte dei parchi di divertimento non so perché ma questa cosa che è stupidissima mi ha fatto ridere poi se voi fate un fermo immagine su quel momento noterete che ci sono degli articoletti dei titoli a destra di quello che lei sta leggendo sulla colonna di destra e sono due in particolare un uomo che ha fatto risse in un bar sfoderando degli artigli di metallo quindi credo sia semplicemente un easter egg però intanto è chiaro che si stia riferendo a wolverine poi ovviamente quando arriviamo nel momento di introdurre wolverine magari potranno dire ma no vabbè era un altro tizio aveva degli artigli diversi era uno che non però mi piace tantissimo la citazione poi magari un modo per introdurre wolverine poco a poco chi lo sa per me è solo un easter egg però sotto e questo mi ha fatto piacere c'è un trafiletto che si pone una domanda perché c'è un uomo gigantesco pietrificato che spunta dall'oceano che è un riferimento a eternals mi fa piacere che finalmente ci sia un minimo riferimento anche scherzoso al fatto che ci sia un cazzo di celestiale di 160 miliardi di metri che spunta dall'oceano sono contento che se ne siano accorti quindi mi piace che comunque ogni tanto buttino questi hint interessanti ma queste cose qua divertono molto e la puntata è intrigante perché effettivamente la trama prosegue lei ha perso il lavoro però la famiglia sta vicino peraltro a questa famiglia bizzarra questi questi mamma papà zii cugino che sono molto stravaganti compaiono poco ma mi hanno già fatto abbastanza ridere peraltro c'è una scena post credit con lei che gli aiuta a fare le faccende perché loro se ne approfittano del fatto che è una Hulk e mi piace il fatto che arrivi questo avvocato che per l'appunto è quello del che era quello che difendeva l'altra parte in causa del processo che è stato annullato perché lei è diventata shiul che ha salvato tutti da titania che le dice guarda facciamo che ti assumo io perché abbiamo creato una divisione per super umani una divisione per persone con super poteri che possono avere bisogno di una difesa o che possono essere accusati e lei quindi giustamente accetta però anche qui c'è una strumentalizzazione ecco questa cosa è già più interessante secondo me non viene presa per meriti legali per via del fatto che è un bravo avvocato ma per il fatto che è shiul quindi è una mossa pubblicitaria è una mossa pubblicitaria lei accetta perché è disperata ha bisogno di un lavoro e tra l'altro c'è ancora la rottura della quarta parete quando lei va per la prima volta nello studio e si lamenta del fatto che è stata scelta solo perché shiul e parla con noi spettatori la questione della quarta parete che ricordo è qualcosa di presente fin dai primi fumetti di shiulk è gestita a mio modesto parere molto molto bene non è abusata c'è solo in una scena questa cosa l'apprezzo mi fa piacere che in ogni puntata non ci siano 3 4 5 scene di lei che parla con lo spettatore quasi me ne ero dimenticato di questa cosa cioè quasi mi ero dimenticato che lei ogni tanto rompe la quarta parete tanto la usano poco quindi ci sta perché altrimenti diventerebbe pesante sarebbe troppo Deadpool like perché comunque abbiamo già due film su Deadpool in cui lui rompe la quarta parete ogni due per tre e risulterebbe un po' ridondante quindi con shiulk l'hanno fatto solo nei momenti giusti e secondo me funziona peraltro la maslana in questo ruolo comico si trova proprio benissimo cioè io la vedo proprio sul pezzo mi piace mi piace tanto la cgi mi sembra leggermente migliorata devo essere sincero e ovviamente è la puntata in cui viene introdotto Emil Blonsky ovvero a bovigno quindi vediamo Emil Blonsky in forma umana per cui Tim Roth che hanno reso simpatico non troppo macchiettistico peraltro il fatto che lui abbia scritto degli haiku per le vittime che ha causato anni prima non so perché mi ha fatto ridere perché c'era che dice sì però dovrebbe fare un discorso per convincere a Giulia a dare la libertà vigilata un minimo più accorato e lui dice ma io mostro il rimorso perché lei dice dovrebbe mostrare il rimorso ho scritto un haiku per ogni singola vittima quella scena è un po' surreale ma divertito e è ovvio che ci sia qualcosa riguardante abominio che noi non sappiamo per due motivi per ben due o tre volte lui nomina queste sette anime gemelle che hanno comprato anche gli hanno anche comprato delle case gli hanno affittato delle case conosciuti col programma Amico di Penna ora queste sette anime gemelle sono una battuta oppure scopriremo che fanno parte di un gruppo che lo vuole accettare non è che queste sette anime gemelle sono i thunderbolts secondo me io ho questa ho questa idea non è che forse siccome hanno già programmato il film sui thunderbolts non è che forse veramente questi sono già i thunderbolts e è il gruppo costruito da Valentina Allegra Funtem perché nel frattempo questa ha continuato a lavorare quindi magari ha creato il gruppo di sette elementi e lui è l'ottavo è un po' questo che ho pensato o magari semplicemente era una battuta sul fatto che lui ha trovato sette anime gemelle non lo so però secondo me perché se fosse stata una battuta l'avremmo sentito una volta sola come mai ripeterlo più di una volta è una battuta un filo ridonnante può far sorridere neanche ridere la prima volta già la seconda mi suona come un hai capito che ci sono sette anime gemelle che lo stanno aiutando quindi non lo so secondo me è un'introduzione a quello anche perché io per tutto il tempo in cui Blonsky compariva mi sono chiesto ho capito quindi è ambientato tutto prima di Shang-Chi perché ricordiamoci che in Shang-Chi la leggenda dei dieci anelli Abominio era addestrato da Wong e combatteva in un'arena quindi quello che ho pensato è vuoi vedere che magari scopriamo che siccome sappiamo che c'è Wong nella serie c'è nei trailer Wong arriva e lo allena ed è ambientato prima di Shang-Chi in realtà questa è la sorpresa del finale dell'episodio ed è una sorpresa che secondo me strizza molto l'occhio a chi Shang-Chi ha visto perché secondo me l'hanno fatto apposta ti fanno credere per tutto l'episodio che la serie si è ambientata prima e poi l'avvocato che aspettava la risposta di Jennifer che non sapeva se accettare o meno il caso perché Emil Blonsky aveva cercato di uccidere il suo cugino Bruce poi chiama Bruce e lui dice guarda Emil mi ha mandato una lettera molto sentita con anche un IQ e ma questa cosa ha fatto ridere ma come è che a lui quindi ci si è lasciati tutte le spalle è stato tanto tempo fa tra l'altro faccio notare che c'è una battuta che ironizza sul fatto che il primo Hulk dell'MCU non è Mark Ruffalo con Hulk che dice è passata tanta acqua sotto i ponti da allora sono una persona diversa letteralmente è ovvio che si riferisce al fatto che è smart Hulk ma è anche un easter egg per dire che non è lo stesso attore che interpretava Bruce Banner all'epoca e questa cosa mi ha spezzato lo ammetto lei quindi accetta e l'avvocato l'ha incastrata perché l'avvocato sapeva già quale sarebbe stata la gatta da pelare di Jennifer e dice bene sono contento che lei sia a bordo signore Walters però accenda la televisione e guarda il notiziario le accende la televisione c'è un notiziario in cui vengono mostrate le immagini di abominio che combatte nella ring nella gabbia e dice l'avvocato di Blonsky non aveva ancora lasciato una dichiarazione ma stanno circolando queste immagini in cui poco tempo fa lui stava combattendo in questa arena e lei dice ah molto bene ecco lì capisci che tutto quello che è successo in Shang-Chi è già accaduto e allora io mi chiedo come mai Wong lo ha portato a combattere come ha fatto a sottrarlo alla sorveglianza questa cosa sono curioso di saperla perché effettivamente è qualcosa che scopriremo nelle prossime puntate si stanno tirando delle fila cioè la trama alla fine si sta dipanando poco a poco però sì io inizio a intravedere uno schema è interessante come cosa è interessantissimo soprattutto poi c'è quella scena con Hulk che sta parlando con lei poi l'inquadratura si allarga ed è sulla nave saccariana che abbiamo visto nel primo episodio che si allontana nello spazio quindi probabilmente stanno veramente gettando le basi per World War Hulk tanto più che nel 2023 dovrebbero scadere se non sbaglio i diritti per i film in solitaria di Hulk quindi io penso che in previsione di questo Disney possa riprenderseli e stia progettando un altro film su Hulk dopo il primo con Edward Norton che potrebbe essere il primo film con protagonista Hulk di Mark Ruffalo che è sempre quello da un punto di vista narrativo ma sarebbe il primo con Mark Ruffalo come attore che ha il ruolo di protagonista assoluto perché il primo Hulk non aveva come protagonista il Bruce Banner cioè è sempre lo stesso Bruce Banner ma non aveva il volto di Mark Ruffalo però è sempre lui infatti lui qua parla del fatto che Blonsky avesse cercato di ucciderlo peraltro Jennifer qua si identifica in Blonsky perché come lei dalla storia che lui le racconta ovviamente noi sappiamo che in realtà quello che dice è vero fino a un certo punto però lei empatizza perché lui dice mi hanno dato i siri del super soldato io pensavo di diventare tipo Capitano America e sono diventato un mostro quindi non è che lui dal punto di vista di lei per come lui racconta la storia non è che lui abbia scelto di diventare abominio gli è stato imposto gli è stato ordinato ha fatto degli errori quindi un po' questo un po' il fatto che se non accetta il caso perde un lavoro che comunque le serve lei decide di accettare quindi è interessante questo mi ha fatto ridere la scena in cui va da Blonsky che si spaventa per gli allarmi oppure è palesemente tutta una citazione silenzio di innocenti con tutte le misure di sicurezza per il prigioniero lei dice ma quindi mi darete anche un buon chianti con del fegato e il tizio dice signorina guarda che questa è una prigione mi scusi quindi questa cosa mi ha divertito tanto devo essere sincero per cui la serie ha continuamente questo tono comico che smorza tutto anche le cose più serie che personalmente io mi sento di apprezzare perché è una serie molto più quadrata delle altre in maniera assolutamente inaspettata è una serie che non prendendosi sul serio tra il serio e il faceto porta avanti dei concetti che secondo me sono più importanti di quelli portati avanti nelle serie precedenti tra tutte le serie credo che in realtà ci sono tante serie dell'MCU che hanno avuto che hanno un impatto sull'MCU quindi WandaVision ha avuto impatto su Doctor Strange e The Multiverse of Madness non fosse che però hanno cambiato quella che era la caratterizzazione di Wanda cioè Wanda è così per gli eventi che sono stati raccontati in WandaVision ma secondo me alcuni li hanno travisati perché è evidente che non si sono studiati il prodotto quindi la serie è importante ma hanno cambiato le cose che volevano loro non tenendo conto le cose che hanno accadute nella serie questa cosa mi fa incazzare poi Falcon and the Winter Soldier è importante perché il prossimo film su Captain America sarà con protagonista Rodi scusate perdonatemi Sam non Rodi Sam Sam che è diventato Captain America in Falcon and the Winter Soldier quindi se uno non ha visto quella serie alcune cose se le perde per strada non solo Miss Marvel Miss Marvel introduce un concetto piuttosto importante come dicevo prima quindi ci sono serie che hanno avuto una certa importanza questa per ora più che importanza ha dei collegamenti belli stringenti vediamo quale sarà l'importanza ma già il fatto che stiano introducendo delle cose con Hulk a me importa tra l'altro non l'ho detto ma pensavo fosse scontato sono piuttosto sorpreso nell'apprendere che anche in questo episodio ci fosse Mark Raffalo cioè Hulk credo che da qui in poi magari non lo vedremo ma chissà magari riserveranno un minuto in ogni puntata per portare avanti la storia di Hulk che è nello spazio a fare qualcosa se così fosse sarebbe incredibile perché non è una cosa scontata che un attore come Mark Raffalo che interpreta un personaggio così importante per la MCU abbia un suo spazio all'interno della serie che può introdurre qualcosa che accadrà al cinema è una cosa effettivamente azzardata ma che potrebbe rendermi questa She-Hulk una delle serie più fondamentali per il futuro della MCU magari poi no per ora non credo che sia fondamentale ma mi piace il fatto che sia legatissima all'universo cinematografico e dall'altra parte penso quello che ho detto prima cioè che sia bello però se poi uno non se la vede si perde le cose vediamo che grado di importanza avrà da un punto di vista narrativo e che tipo di impatto però devo dire che il modo in cui stanno gestendo tutto a me personalmente sta piacendo e non poco apprezzo grandemente come stanno raccontando il dramma di Jennifer niente di particolarmente esagerato lei si preoccupa il giusto però è bello perché comunque ti fanno vedere anche qual è la difficoltà nel essere un supereroe peraltro lei non è una supereroina ancora lei non vuole definirsi tale tra l'altro mi è piaciuta la battuta che fa a un certo punto e dice no no quella è roba per narcisisti miliardari o orfani per qualche motivo che non mi spiego perché è vero che la maggior parte di supereroi o sono orfani o hanno problemi con i genitori o ad esempio come Tony Stark o Batman sono ricchissime si possono permettere un certo tipo di equipaggiamento questa cosa mi ha divertito mi piace lo spirito con cui lui prende tutto anche quel fatto che arriva il suo capo che le chiede di tornare a dimensione normale lei lo fa ma siccome ha bevuto un sacco l'alcol che è in circolo si aggancia al suo metabolismo umano e lei è ubriaca fradice all'improvviso e dice scusi ho un metabolismo diverso adesso quindi è interessante come prospettiva così come è interessante che adesso dal prossimo episodio lei sarà un avvocato che difende o è convolto comunque in processi contro persone con superpoteri che è quello che dicevo nel video precedente a questo sulla serie nel video in cui parlavamo nella prima puntata io dicevo che dobbiamo prepararci a vedere un sacco di personaggi minori dei fumetti trasposti come degli scappestrati con i superpoteri che giocano a fare i supercattivi i supereroi perché per ora secondo me nella MCU hanno introdotto poco personaggi minori che hanno superpoteri che però magari non sono dei supereroi molto considerati questa cosa potrebbe essere interessante perché ad esempio in The Boys che è una serie che decostruisce vedere i supereroi ci sono tanti supereroi minori che sono in gruppetti che non si caga nessuno questa cosa nell'MCU in maniera un po' più seria non parodistica non l'abbiamo ancora vista per cui penso che la vedremo con questa serie e la cosa a me personalmente neanche dispiace io apprezzo l'idea mi diverte il fatto che possiamo vedere dei personaggi scappestrati già Titania è un personaggio che insomma non è che sia particolarmente conosciuto quindi vediamo come la svilupperanno ci saranno altri super cattivi supereroi minori che dovremmo vedere in teoria quindi sono molto curioso a questo punto mi chiedo se si stiano prendendo il tempo per iniziare con una struttura procedurale o se proprio non ci sarà cioè io voglio sapere se ci sarà il caso della settimana mezz'ora forse per fare caso della settimana con trama orizzontale che si espande è poco per ogni episodio non lo so vediamo per ora sono intrigato presumo che nel prossimo episodio arriverà Wong quindi capiremo che cosa sta effettivamente facendo Wong con Abominio siccome nel trailer Wong diceva che era in pericolo il continuo spazio temporale voglio capire che cosa sta accadendo perché qua secondo me c'è in ballo qualcosa di grosso che ancora non è emerso ci sono dei dettagli cioè la cosa di Abominio la cosa di Hulk che viene portato via dei saccariani sta succedendo chiaramente qualcosa poi Hulk sembra consenziente perché è lì che parla col testo quindi è salito a bordo volontariamente credo sulla nave saccariana per cui da capire cosa faranno perché sì si può avere un bel dire a affermare che stanno preparando World War Hulk ma sappiamo che poi le cose dell'MCU sì le traggono dai fumetti ma le vanno a rielaborare in maniera molto personale per cui non mi aspetterei mai la World War Hulk dei fumetti mi chiedo come l'andranno a rielaborare soprattutto la domanda che mi sto facendo da quando ho finito di vedere l'episodio l'ho azzeccata la cosa dei Thunderbolts o ho preso io una cantonata perché secondo me in questa serie ne approfittano per mettere in piedi cioè non per mettere in piedi ma per farti capire che Abominio andrà nei Thunderbolts io ne sono convintissimo perché secondo me lui nei Thunderbolts ce lo mettono ne sono straconvinto magari mi sbaglio staremo a vedere però ho questa convinzione nelle ossa per cui è stato un episodio divertente simpatico fresco CGI un po' meglio rispetto a quello che vedevano nei trailer è anche meglio rispetto a quella prima puntata c'è sempre la fissazione con i piedi ci sono sempre un sacco di inquadratori sui piedi spiegatemi perché Jessica Gao è fissata con i piedi non l'ho capito non lo so Jessica Gao è quella che ha scritto la serie però comunque anche registicamente non è poi male ha una regia normale ci sono dei momenti un po' migliori rispetto a quelli dell'episodio precedente la regia secondo me ha un filino migliorato la cosa divertente che è un episodio che mi è piaciuto nonostante non ci sia azione c'era molto più azione nel primo in questa di azione in questa puntata di azione non ce n'è eppure con i dialoghi con l'andare avanti della trama mi ha intrattenuto non sto parlando di chissà quale grande puntatona di una serie però è esattamente quello che volevo che fosse una serie godibile mi sono chiesto cosa vorresti da Shulk perché ti piaccia vorrei una serie divertente già che è una comedy fatemi divertire mettetemi riferimenti l'MCU io sono contento so cosa sto guardando so perfettamente che non sto guardando Shakespeare ok quindi il massimo che ha qui a Spiro è una roba del genere a me va benissimo così io non ho problemi ecco poi mi piace la fotografia che butta bagliori verdasti su di lei anche quando non è trasformata come dire che Shulk la sua vera forma perché siccome l'idea è che la vera forma di lei è Shulk sia qualcosa che per l'appunto è sempre con lei e è bello vedere che lei non inizia adesso non voglia diventare un supereroe lei è costretta a diventare un supereroe ma non vuole farlo lei vorrebbe essere solo un avvocato che ha studiato leggi ha accumulato migliaia di debiti e vuole pagarli e vuole diventare un avvocato di successo non vuole essere una supereroina quella che lei considera un fenomeno da baraccone però il problema è che è il suo destino non può farla meno capisce che ha delle responsabilità lei dice è vero io ho salvato queste persone ma ho anche perso il lavoro forse sarebbe stato meglio non salvarle ma sa anche lei che per come è fatta non avrebbe mai potuto non salvarle piuttosto è ingiusto che la licenzino per aver fatto una buona azione ecco quindi è una serie che offre anche dei piccoli spunti di riflessione per me episodio assolutamente promosso si fa ancora in tempo a mandare tutto a puttane incrocio le dita per i prossimi sperando che il livello si mantenga su questo che non è un livello altissimo ma è un livello di simpatia e di coerenza che non mi dispiace quindi poi alcune gag non funzionano moltissimo non ha questa grande storia per l'amor di dio però i personaggi sono simpatici Tatiana Maslani è molto brava la sua Shurk come personaggio funziona non sono d'accordo con chi dice che è insopportabile a me piace a me diverte tantissimo quindi per ora mi sta piacendo un sacco vedremo cosa succederà nei prossimi episodi quindi io vi scrivo in descrizione in un contenitore sotto cosa ne pensate voi di questo episodio se vi è piaciuto se non vi è piaciuto e in tal caso perché e vi abbraccio ovviamente grazie e noi ci vediamo al prossimo un buon blog a tutti